Pronto? Pronto, Presidente? Sì, Luciano. Chiamami così. Sono contento che hai comprato la Juve. Finalmente una persona seria alla guida della società. Ha, ha. Hai visto cosa hanno combinato quelli? Hanno distrutto la Juve. A confronto, io e i miei compari scherzavamo. Vieni al sodo, Luciano. Ho fretta. Lo sai che ti voglio bene? Se mi trovi un posticino in società, io sono sempre disponibile. Ti farò sapere. Una mano è sempre bene accetta. C'è poco da stare allegri. Nelle condizioni in cui siamo messi. Ma magari messi, Presidente. Qui ci tocca fare nozze con i fichi secchi. Alessandro, se fa uno scatto, si incendia. Di Maria, quando sta notizia, gli parte quadricipite. Non si lamenti, Massimiliano. Non l'ho ancora esonerata solo perché mi piace il suo ghigno diabolico. Descillo. Adesso può smettere di usare tagliaerba. Sto parlando. Ho avuto una premonizione. Vi faranno un bel funerale. Per questo sono arrivata io. Oh, ma questa porta sfiga. Vi meritereste l'ottito. Ma, Presidente, giovedì non ci piace. Non è che lei, visto il suo nome, può fare qualcosa per farci tornare a giocare a mercoledì. Ah ah, lei è licenziato. Mano, telefona Mazzarri. Tanto con i cambiamenti climatici ormai non piove più.